Mister, una sconfitta sul campo dell'atletico calcio forse non se l'aspettava all'inizio? Noi abbiamo preparato una partita in una certa maniera, l'approcciata in maniera giusta, invece l'abbiamo approcciata malissimo, abbiamo fatto malissimo, tutto per 90 minuti è stato un continuo, sbagliare la scelta, le situazioni e tutto quello che c'è da sbagliare, l'abbiamo sbagliato tutto, quindi è una partita che abbiamo meritato di perdere, ci facciamo un esame di coscienza di tutti che forse è meglio. Mister, al centrocampo loro forse hanno giocato meglio, l'hanno amministrata meglio, ma l'ISC ha sbagliato anche sotto porta. Ma non c'entra niente, ma non è questo il modo, non si può prendere una squadra come la nostra, con i giocatori esperti che non possiamo approcciare una partita così, pigliare due gol che ce li siamo fatti da soli, perché ce li siamo fatti da soli, vuol dire che non siamo pronti per fare qualcosa di importante. In casa il ruolino di marcia è importante, fuori casa state perdendo. Per noi non ci deve cambiare il fatto di fuori casa e in casa, facciamo sempre le stesse cose quattro anni fa in casa, in casa, in casa, se si gioca a calcio o si viene a fare una partita come la facciamo in casa, dobbiamo fare fuori, chi non è pronto a fare questa roba qua, vuol dire che non siamo pronti a fare qualcosa di importante. Dove ripartire? Da ripartire a lunedì quando arrivo al campo. Un'ultima domanda, per quanto riguarda anche la società, il ricorso per la squalifica di Lubrano, insomma questo anche ha inciso sull'ambiente? Quello no, mi dispiace per Mario, ma non è quello, noi abbiamo approcciato proprio male, abbiamo fatto una partita proprio dopo dieci minuti, non siamo stati capaci di buttare una palla lontana dall'aria, l'abbiamo rinviato quattro volte, siamo stati capaci di rinviarla lontano, ci hanno fatto gol, dopo due a zero, una palla a Giovanni Mattra da solo, gliel'ha data allora, abbiamo rinviato due a zero, una squadra come la nostra non si può permettere questa roba qua.